Buongiorno, ben ritrovati. Oggi è il 24 luglio, io mi trovo a Senise, in provincia di Potenza. Questo è uno degli angoli più suggestivi, credo, di questo bel paesino della Basilicata, famoso anche per i suoi peperoni, che poi diventano i safaran kruschk, buonissimi. Ma non voglio parlarvi stamattina di peperoni, né delle bellezze di Senise, ma voglio rivolgermi, questo sì, al Presidente della Giunta regionale di Basilicata per segnalare al Presidente Bardi che la Basilicata è una delle poche regioni d'Italia dove da tempo immemorabile non viene istituita la figura del garante per i diritti dei detenuti o, se vogliamo dirla in maniera un po' più tecnica, del garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive, la libertà personale, eccetera, eccetera. Questo nonostante, signor Presidente, la presentazione di tre proposte di legge, tre proposte di legge presentate sul mio input e grazie alla sensibilità di chi quell'input ha voluto raccoglierlo nel corso degli anni. La prima proposta di legge, Presidente Bardi, fu presentata, pensi un po', nel 2010 in una conferenza stampa con i compagni del Partito Socialista Italiano. Successivamente, credo 4-5 anni dopo, ci fu una seconda proposta presentata e depositata è ultima, ma non ultima, la proposta presentata dall'ottimo Marcello Pittella, oggi Presidente del Consiglio regionale, nel 2019. Queste tre proposte di legge non sono nemmeno arrivate in Consiglio regionale, non sono state mai discuste in Consiglio. L'ultima proposta, quella avanzata da Pittella, pensi un po', signor Presidente, aveva ricevuto addirittura il parere favorevole di tre commissioni consigliari, eppure non se n'è fatto niente. Allora, io sto parlando di una questione che attiene il diritto, lo Stato di diritto, la Costituzione, l'articolo 27 della Costituzione, ma non solo l'articolo 27 della Costituzione, perché per come la vedo io, la figura del garante è a garanzia dell'intera comunità penitenziaria, quindi certo i detenuti, ma anche coloro che nel carcere ci lavorano. Allora, signor Presidente, dopo 14 anni ce la facciamo a colmare questa lacuna e questa ferita inferta allo Stato di diritto? Mi rivolgo a lei, ma mi rivolgo anche all'intero Consiglio regionale e lo faccio qui da Senise, da questo bel comune della Basilicata, esprimendo appunto l'auspicio che finalmente si faccia ciò che si deve, ciò che è un atto dovuto. Ripeto, solo quattro regioni in Italia non hanno il garante, tra queste, ahimè, c'è la Basilicata ed è un primato di cui non credo possiamo menar vanto. Buona giornata!